Il cancelliere tedesco, il primo leader del G7 a giungere a Pechino da quando è scoppiata la pandemia di Covid, una visita a Lampo, quella di Scholz, accompagnato da una delegazione di imprenditori e manager tedeschi, che ha sollevato anche polemiche interne alla Germania sulla dipendenza di Berlino dalla Cina. Nell'incontro con il presidente Xi Jinping, il cancelliere tedesco ha indicato di voler sviluppare ulteriormente la cooperazione economica con Pechino, precisando però che i due paesi mantengono prospettive diverse. Da parte sua Xi Jinping ha affermato che Cina e Germania dovrebbero collaborare in tempi di cambiamento e caos per dare maggiori contributi alla pace e allo sviluppo mondiale. Il presidente cinese si è spinto anche a sollecitare che le relazioni con l'Unione Europea non siano controllate da terzi, evitare i confronti tra blocchi e le interferenze animate dall'ideologia detto ancora Xi Jinping. E nel colloquio con il premier cinese Di Keqiang, il cancelliere Scholz ha chiesto relazioni commerciali tra Pechino e Berlino, eque e basate sulla reciprocità. Non è mancato un confronto sulla guerra in Ucraina. La comunità internazionale si opponga all'uso alla minaccia delle armi nucleari, ha indicato Xi Jinping, un'affermazione quanto mai diretta per la Cina, mentre Scholz ha auspicato che Pechino usi la sua influenza sulla Russia.